Musica Una buona giornata, siamo con un produttore giovanissimo di radicchio e non solo, ma anche di prodotti articoli però diciamo che nello specifico il radicchio occupa parecchio spazio in azienda vediamo se riusciamo a far parlare Giancarlo Gomiero che è il titolare di questa azienda davvero giovane che si trova nella provincia di Padova, ciao Giancarlo Ciao, la mia azienda è situata a Piazzola sul Brenta, nel parco del Brenta e si occupa di ortaggi in particolar modo appunto del radicchio siamo nel pieno della stagione, il fiore dell'inverno e poi passiamo anche all'asparago che succede subito dopo il radicchio cosa dire, è un'azienda nata dalla passione, dall'amore per il terreno, per il territorio siamo partiti un paio d'anni fa e adesso siamo nella principale crescita dell'azienda abbiamo vari ortaggi durante tutto il ciclo dell'estate in azienda trovate uno spazio aziendale ben rifornito ovviamente dei nostri prodotti freschi, raccolti solamente di giornata quant'altro dire, veniteci a trovare Va bene essere sintetici nel raccontare la propria azienda però Giancarlo, tu quando hai iniziato questa chiacchierata hai detto è un'azienda nata solo due anni fa dalla passione sottolineiamo che tu hai solo 27 anni e magari non se lo aspettavano i tuoi ma hai deciso proprio di studiare per diventare perito agrario e preoccuparti di questo lavoro un lavoro che di solito allontana i giovani invece tu ti sei avvicinato a questo mondo Sì, diciamo che è un lavoro molto duro in termini di orari di lavoro di presenza nell'azienda che richiede una presenza costante tutti i giorni la passione è la cosa che ti ripaga più di tutto poi verrà da sé la soddisfazione economica e tutto quant'altro verrà da sé ma la passione di vedere crescere il proprio lavoro vedere la propria azienda che si sviluppa il proprio raccolto che a fine del ciclo di coltivazione è pronto, è bello e ti dà una soddisfazione immensa Allora, visto che voi siete un'azienda che pratica il famoso chilometro zero cioè producete e poi vi siete fatti lo spaccio aziendale io direi che la cosa migliore è che tu spieghi come si fa a raggiungere questo spaccio e soprattutto se avete un numero di telefono un sito internet per prendere informazioni ti inviterei a darlo Allora, il numero di telefono è 348 47 32 280 oppure potete mandare una mail a giancarlogomiero.it L'azienda si trova a Piazzola sul Brenta dietro alla villa, la magnifica Villa Contarini di Piazzola sulla dalla statale che va a Padova a Carmignano dista circa 500 metri E lo spaccio è aperto in che giorni? Lo spaccio è aperto tutti i giorni perché siamo presenti in azienda tutti i giorni tranne la domenica conviene sempre fare un colpo di telefono prima perché per eventuali atmosfere avverse o per quant'altro possiamo anche non essere presenti ma comunque siamo sempre Diciamo che se il tempo non è buono è probabile che tu sia nei campi a raccogliere, esatto, a raccogliere gli ortaggi e quindi non sei a vendere gli ortaggi Grazie a Giancarlo Gomiero